Ad un anno esatto dall'inizio della battaglia continua l'attività di sensibilizzazione anche diplomatica del Comitato Novasch, soprattutto in vista dell'udienza che si terrà dinanzi al Tardi Napoli il 24 ottobre. In quella sede il Comitato avrà il supporto dell'amministrazione comunale di Nociara Inferiore, che ha scelto di essere in prima linea per la tutela della salute dei cittadini. Era stato programmato un incontro per il 28 luglio scorso tra il Comitato e l'amministrazione comunale di Striano, un vertice però slittato all'ultimo momento a causa dell'assenza di alcuni consiglieri. In quel comune ci sarà tutta l'intenzione a settembre di sostenere le motivazioni del Comitato, si dice. In questo periodo di ferie, fanno sapere quelli del Comitato attraverso il presidente Emidio Ventre, stiamo lavorando a 360 gradi, sia a livello istituzionale che nell'ambito dell'acquisizione di prove e perizie per dimostrare una cosa che, secondo Ventre, anche un bambino potrebbe riconoscere ad occhio nudo, e cioè che la cavaiola e la solofrana sono inquinati. Ieri pomeriggio gli ambientalisti sono stati invitati da un gruppo di cittadini di Via Cavallaro a Scafati. Quella fetta di Scafatesi ha richiesto un incontro con il Comitato Novasche per formalizzare la propria adesione, anche con un sostegno economico, per fare fronte alle spese legali. In Via Cavallaro è prevista una vasca a cielo aperto per contenere gli scarichi fognari di Scafati e dei comuni a monte. Sebbene l'infrastruttura sia impermeabilizzata, contrariamente alle altre opere di laminazione previste, questa sorge a ridosso di condomini e del liceo scientifico Cacciopoli di Via Nio, oltre che a soli 100 metri dall'ospedale. La vasca, secondo un vecchio progetto del generale Iucci, oggi ripreso all'interno del grande Sarno, è di circa 15.000 metri quadrati. Tre campi da calcio, spiega Ventre, tanto per capirci, e dovrà contenere acque fognari e di prima pioggia. Sarà composta da due invasi, uno da 4.500 metri cubi, l'altro da 12.000 metri cubi. L'Annunziata Porpora, proprietaria di circa 4.000 metri quadrati di terreno fertile ed attualmente coltivato, racconta i medioventri dopo l'incontro di ieri, è in preda alla disperazione perché sarà completamente espropriato. E se ora dalla sua finestra si guarda il giardino, con la realizzazione del progetto, quella finestra si affacerà su 12.000 metri quadrati di liquami fognari. Qui non solo si creerà una palude, ma sicuramente una fonte di contaminazione a cielo aperto, sotto gli occhi e soprattutto il naso di migliaia di cittadini. Per agosto in programma altre attività di sensibilizzazione, tra cui una riunione con i cittadini di Via San Pietro a Scafati, dove è prevista un'altra opera di laminazione. Il presidente del Comitato Domasche chiarisce Noi vogliamo la messa in sicurezza del fiume Sarno, ma vogliamo anche che sia riconosciuto dalla valutazione di impatto ambientale il reale stato di inquinamento in cui versano i torrenti Cavaiole e Sulofrana, che aumentano il loro carico inquinante di cromo e di idrocarburi, soprattutto quando piove, come dimostrano i prelievi che abbiamo effettuato durante il mese di luglio, caratterizzato da eccezionale piovosità. Quindi, in occasione dell'udienza di ottobre al TAR, chiederemo l'annullamento del decreto Via numero 177 del 2013 e verrà chiesta anche la nomina di una nuova commissione ministeriale Superpartes.